E' un cazzo cavallo, dammi tu cazzo le maschere, l'eroe che vuoi tu! Maschere... Stop! Vieni, buono! Adonazione! Buona! Azione! Che è questa storia che dobbiamo togliere sigilli alla cantina della... ...la festerasora, la cosa si chiama che? Porta! A pace stai pericendo! Facite pagami una cosa! Annuncio, pace... Annuncio, pace... Vaffanculo... Annuncio, pace, pace... No, lo so, lo so, mi sono cercato la lingua, dove? Ci sono domande? Ma sta cinese, cosa c'è fa? Ci ha portato la lavagnetta? Lavagnetta! Sì! Adoro, capisci il cazzo! Basta, fermati! Basta, fermati! No, no, no! Sto girando! Stai appartinendo! Eh? Eh... Niente, mi viene andata! Basta! Eh, Massimo! Facciamo le persone serie per una volta, eh! Tu ho fatto un pescetto all'acqua pazza? Dici... No, lo sai fatta? Come? Ha parlato del padrone? No! Ha fatto il consiglio di cufferci! Ci ha fatto firme di dimissione! L'ha mandato! E non c'era da manca nero! Eh? Sei anni che stai qua ti ha visto imparato una parola! Non c'era da manca nero! Praticamente la liquidazione al contrario Eh, non c'è la tua manca nè? 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 Allora, voglio... Io ho dato un'ecchia... Arca puttana scusate Oh, c'era questa e Zero Trans Preferite Dimmi se voi che stoppiamo, Vincenzo? O no? No, stiamo girando Scusate Ok Ok, silenzio Vado, santo? No, stop, stop Ah, stop, stop L'altro giorno stavo in un negozio Sai cosa mi è successo? Che vengono queste persone che vendono cd falsi, no? Mi voleva vendere a me il mio cd Che aveva due giorni prima l'aveva portato Allo studio a fare lo stampaggio Cioè, non ce la faccio più E poi cd, stai a pensare cd, ormai si scarica Quanti cd si venderanno a Napoli? Eh, io vendo 8, 10.000 copie Ah Oh Eppena festa di piazza quanto prendi? La festa di piazza fa 5, 6, a volte quelle 10 Dipende dalla lontananza dove ci portano Poi ci sono Ancci, avremmo ci scudono Come ci sono? Che donna tu, no? Aszione! Vi da fanno mazza a cussi Siete i miei noi Ah, per... Scusate, scusate Ma te hai capito che è successo? Vabbè Ragazzi Comunque, che dici nana? Se siamo meritati una vacanza In quali soldi? L'ho anche speso tutto per comprare la cocaina Agoli Non ho le chiavi della macchina Ma che davvero Bene Ciao